Mister, siamo qua al Caderissi, dietro ai tuoi ragazzi. Quanto lavoro ti danno da fare questi piccoli indemoniati? Guarda, se devo essere sincero, sono abbastanza fortunato perché è un gruppo abbastanza emogeno dove riescono a recepire abbastanza le cose. Sicuro che bisogna avere tanta pazienza perché essendo piccolini, noi adulti pretendiamo che loro sappiano già fare cose che invece devono migliorare e imparare. Cosa gli insegni? Abbiamo visto prima tanta tecnica. Tutto, secondo me a questa età qua fino ai 12 anni basilare la tecnica, 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 poi la tattica, l'aggressività, sono cose che vengono dopo. A questa età qua si devono divertire, devono parlare in fondamentali, che poi hanno certe età fondamentali, sì li puoi migliorare ma è difficile imparare. E la cantera del Mola Sanabuero funziona perché poi vediamo in prima squadra tanti ragazzi del vostro settore giovanile e si incomincia anche già da questa età a prepararli. Sì, finalmente dopo parecchi anni la società ha capito che se siamo in settore giovanile bisogna attingere alla prima squadra col settore giovanile, se no è inutile che noi che siamo nel settore giovanile lavoriamo e non vediamo nessuno arrivare in prima squadra. Questo grazie anche ai responsabili Ferrari della scuola a calcio e al signor Nocentini del settore giovanile. Obiettivi per quest'anno, cosa vuoi dire ai tuoi ragazzi? Ma guarda, i miei obiettivi sono principalmente, ora poi parlerò anche con i genitori, che principalmente la mia vittoria è quella che i bambini imparino a giocare al calcio e migliorino. Poi i risultati di classifica arriveranno perché chi gioca bene impara, alla lunga vince. Alessio è iniziato anche per voi il campionato, come sta andando questo inizio stagione? Devo dire che tutto sommato sta andando abbastanza bene, abbiamo fatto tre vittorie, una sconfitta, ora cerchiamo di qualificarci ai regionali, anche se sarà tosta, però ce la mettiamo tutta. Cosa ti aspetti dai tuoi compagni in questa stagione? Semplicemente impegno, che ce la mettono tutta ogni partita. E per te che sei il capitano, cosa vuol dire essere capitano della tua squadra e se gli aiuti anche nei momenti di difficoltà? Per me personalmente è una bella soddisfazione perché da sei anni che sono in questa società e essere capitano oggi è importante per me. E sì, cerco comunque di esserci sempre per tutti e dare il tutto per tutti, cioè dare tutto come gli altri. Andrea sei giovane ma uno dei più vecchi, tra virgolette, perché sei da dieci anni, che sei qua al Molasana, che cosa vuol dire per te il Molasana? Per il Molasana per me è una grande famiglia, ho tutti gli amici e siamo tutti insieme ritrovandoci dopo scuola qua ad allenamento. Perché hai iniziato a giocare a calcio? Per passione, perché mi piaceva e allora ho iniziato. Il tuo obiettivo per quest'anno? Qualificarci per i regionali. Che ruolo hai? Centrocampista, punta. Sei un po' un trequartista, lo sai finirlo così. Il tuo idolo chi è calcistico? Giacomo L'Aventura. Perché? Perché mi piace come gioca, è molto bravo e sei come tifo a Milan, è uno dei miei idoli. E adesso quindi il prossimo passo, Juniores o direttamente in prima squadra? Cosa sogni? Speriamo in prima squadra.